Siamo in compagnia del sindaco Massimo De Paoli, finalmente è conclusa l'opera di riorganizzazione del Bosco Grande, la piantumazione. Qual è il suo pensiero e qual è il punto a cui siamo arrivati? L'intervento è stato attuato nei primi mesi di quest'anno, 2015, proprio per sfruttare il periodo utile per le piantumazioni e appunto per riparare i danni provocati dal nubifragio, a cui si è aggiunto, devo dire, in itinere anche il forte vento di aprile che ha fatto cadere qualche altro albero, per cui si è potuto anche porre rimedio a questo. È un intervento che ricostruisce il tessuto del bosco. Comune di Pavia ha la fortuna di possedere queste due tenute, diciamo ex tenute, che sono il Bosco Grande e il Bosco Negri, che sono due gioielli davvero, perché di boschi planiziali, cioè boschi della pianura padana, conservati in quello stato, ce ne sono pochissimi. E quindi per noi è un motivo davvero di grande attenzione essere molto attenti a quello che succede e a ricostruire il tessuto boschivo. L'intervento ha riguardato una superficie consistente, un decimo del bosco. Sono state messe a dimora piante come querce, frassini e altre piante. Insomma, il Comune di Pavia ha l'intento di avviare un grande piano di piantumazione. Abbiamo cominciato da questo perché c'era un'esigenza specifica e perché sono aree naturali, ma vogliamo arrivare ben presto anche sulla città. Siamo con Alberto Marchesi, le chiedo di fare il punto della situazione della piantumazione a Bosco Grande. Allora, ha dato un ottimo risultato. La piantumazione è viva al 90%, ci sono anche dei germogli che hanno superato il metro d'altezza. Pertanto, nella parte dove la tromba d'aria o il tornado, chiamiamolo adesso come ognuno preferisce, ha battuto di più, che ha lasciato notevoli danni, ora si spera che in breve tempo riprenda la sua funzionalità di bosco. Oggi è stato fatto un sopralluogo per vedere lo stato ottimale degli alberi e delle piante che stanno man mano rivigorendo la zona. Grazie.